più pare che quando hai due calcani mi sono a copponato scudiamo, io sono i rapici dei personaggi Cavani a sinistra che si muove, 9000 posizione regolare, Cavani hai vallaccio? dentro l'operazione in Sistema la vizzi, l'ocversario la vizzi pavolata, Cavani vuoi in gioco? va proprio il gioco oh, vuoi in gioco? c'è proprio il gioco neanche un gioco l'ultima fatta nella vizzi avrò un gioco e si scanna è anche il gioco è anche il gioco guarda proprio il gioco cavani, l'ultima fatta la vizzi palami Cavani a Saltiero nooo vabbè fai il pazzo La palla l'ha presa con lo sticola, è rimasta alta. Guarda bene per Cavani che si è messo in posizione di ala, si accentra Cavani, spazio e tasati, combina con il tiro, il tiro... GOOOOOOOL! Ma che c'è un marco! Noi 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 noi! Ma comeva il pubblico! Eh, super lì! Noi 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 no! Noi 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 noio! Ma che c'è un marco con teili... Eh! Resta! Noi 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 noio noi noio noio! L'ha si chata la mano hai la mano! Si fa no cuicare! Noi fai' la mano! Ma io sto bene a spiazzare la volta! Ma io sto bene a spiazzare la volta! Ma io sto bene a spiazzare la volta! E vai! E vai! Quattro! Quattro! Ma facciamoci! Lo c'è! Ma spessantissimo ragazzi! Domani che prendiamo di stare soffrendo! E questo è un amico ragazzi! Cambiamo e poi ci sarà giallo! E poi quello potevano guardarci! E poi non lo voglio! Eh! Posso mai girare il diretto? In questo episodio non sono più calutari! Noi si sono più calutari! Noi si sono più calutari! Noi si sono più calutari! Non ho più calutari! E tu non manca a questo! Non lo fa male! Eravate entrato sulla volta! Sulla là! Ma si ci stupi dei amici! Non lo fanno la mia cosa! E' la cosa andando a fare! E' la cosa andando a fare! Io quando com'è andato il rizzo, mi ha detto che ieri ti facciam, un po' ti porto il prendere! E' la cosa e la cosa! Non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola. Non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola. Non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola. Non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola. Non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola, non credo di rinforzare la regola. Il pallone in verticale per Cavalli, la posizione di Cavalli, la posizione di Luisa, Cavalli davanti al quartiere, va bene il posto! GOOOOOOOL!!! 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 Oh, Gatti, oh, Gatti! 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 Ahahahah! Ahahahah! Beh, Gatti, Gatti! Non so sezza voce! GOOOOOOOL!!! Oh, Gatti! Ah, no... Gatti! Come sapevo passaccio il punto a cercare? Non si va santo... Come sapevo passaccio il punto a cercare? No! Come sapevo passaccio il punto a cercare? No! Eh, vai! Grande Cavalli con un braccio! Gatti! Gatti! Amsic in area, Amsic, la stanzata, portavolta! ARIGOOOOOO Vai Allora 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 Mamma mia